Però il governo e Renzi dicono che ci saranno dei contratti a tempo indeterminato e non ci saranno più i contratti precari, cosiddetti precari. Ripeto, è una valutazione che non trova riscontro nei decreti che sono stati approvati. Tutti i contratti precari sostanzialmente rimangono, gli ammortizzatori sociali per i precari non sono stati estesi mentre i lavoratori e le lavoratrici hanno perso la possibilità di ottenere reintegro quando vengono licenziati senza una giusta causa, un giustificato motivo. Anche l'ordine del giorno approvato alla direzione del PD in autunno che prevedeva il reintegro per i licenziamenti disciplinari è stato ignorato. Oltre dell'aspetto più grave ad essere ignorato il parere delle commissioni parlamentari di Camera e Senato che pure i gruppi del PD avevano votato l'unanimità. Quindi c'è un problema di merito che riguarda il raggiro dei precari, c'è un problema di metodo che riguarda la marginalizzazione, lo schiaffo dato al Parlamento che con le commissioni parlamentari aveva chiesto di correggere i decreti.